Chi ha maggior rischio di infarto presenta un marchio specifico nel sangue. Ad individuare un nuovo e importante marcatore genetico è uno studio italiano che permetterebbe di individuare precocemente le persone ad alto rischio e su cui intervenire d'urgenza. A realizzarlo un gruppo di genetisti e cardiologi dell'Università e del Policlinico di Tor Vergata di Roma che ha individuato questo importante marcatore genetico. La malattia coronarica e la sua complicanza principale, l'infarto del miocardio, uccide ogni anno circa 70.000 persone in Italia ed è una delle principali cause di morte e disabilità. A causare quasi tutte le sindrome coronariche acute è un mix fra stili di vita e componenti ereditarie. Capire la relazione tra queste due variabili è stato l'obiettivo dello studio. Non è il primo biomarcatore dell'infarto, finora identificato, ma secondo il team di medici e ricercatori di Tor Vergata è il più importante. Consente infatti di individuare il gruppo di soggetti più a rischio e quindi di intervenire in modo preventivo e immediato. Pertanto apre le porte alla medicina personalizzata o di precisione.